La Presidente comunica la formazione di una componente politica nell'ambito del gruppo mistico e la modifica dalla composizione dell'ufficio di presidenza di tale gruppo. La seduta termina alle 17 con l'altura dell'ordine del giorno della seduta del 1 dicembre 2015 con inizio alle ore 9.30. Grazie, se non vi sono obiezioni, onere del grosso, prego. Obietta. Grazie, Presidente. Vorrei intervenire un minuto sul processo verbale per un semplice fatto. Perché questo intervento lo posso fare? Perché sabato notte ero presente qui in aula e sono intervenuto in sede di stabilità. Ora, mi permetto una piccola precisazione. Il grosso, questo è il processo verbale di una seduta diversa, quindi lei può certamente fare il suo intervento, ma quando affronteremo il processo verbale della seduta riferita alla seduta che si è conclusa con la seduta fiume. Perfetto. Grazie. Quindi, se non vi sono altre obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che se anzi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfredo, Ramici, Artini, Baldelli, Bellanova, Bernardo Bindi, Bondelli, Bobba, Bocci, Bonifazzi, Borletti dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Brunetta, Bueno, Capelli, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dincà, De Menec, De Micheli, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferrara, Fico, Fioroni, Fontanelli, Franceschini, Giacomelli, Giancarlo Giogetti, Gozzi, Guerra, Locatelli, Lorenzini, Losacco, Lotti, Madia, Marazziti, Mazziotti, Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Miotto, Monchiero, Nicoletti, Orlando, Pesse, Piccoli e Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Relacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sciulian, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco, Calipari e Zanetti sono in missione a decorrere della seduta d'Erna. I deputati in missione sono complessivamente 94, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A a resoconto della seduta d'Erna. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Gianluca Pini d'Altri 1-1067 e Grande d'Altri 1-1086 Concernente iniziative per rilanciare